Castelbuono 92 grado Giro di Castelbuono, ecco gli atleti in gara Giovani e velocissimi, e l'identi kit dei top runner presenti quest'anno alla 92esima edizione del giropodistico internazionale di Castelbuono in programma mercoledì 26 luglio. Kenya, Eritrea, Etiopia, Uganda, Spagna e naturalmente Italia le nazioni presenti a Castelbuono. In gara, e favorito della vigilia, Kve Moy Rogers campione del mondo in carica under 20 nei 10.000 in pista. Kenya rappresentato anche da Giuseppe Perumoy che quest'anno ha corso la mezza maratona in 1h0054. Uganda al giro con l'under 20, Anthony Ieco e con il più esperto Simon Rugutki-Pngetic. Europa rappresentata dalla Spagna con Carlos Maio che ha conquistato in Polonia il titolo europeo under 23 nei 10.000 e Antonio Abbadia. Poi tanta Italia da Marco Salami, a El Mazzouri da Alessandro Giacobazzi a Paolo Zanatta. L'esercito degli atleti siciliani è capitanato dall'atleta di Modica Giuseppe Gerratana, siepista, e da Vincenzo Agnello originario di Misilmeri e tesserato per il casone Noceto Parma. E ancora Alessandro Brantato, Giorgio Scialabba, Alessio Terrasi, Filippo Russo e Filippo Lopiccolo. Martedì sera la presentazione in Piazza Margherita il giorno dopo si aprirà con la gara riservata alle categorie giovanili. Italpress. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps. Martedì sera la presentazione in Piazza Margherita.